ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti con marmellata e nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa gli ingredienti sono farina doppio zero burro freddo a pezzi zucchero 2 uova più un tuorlo vanillina lievito per dolci la scorza di un limone marmellata e nutella diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la scorza del limone e lo zucchero e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo sul fondo del boccale lo zucchero adesso aggiungiamo il burro freddo a pezzi la farina le uova il lievito per dolci e la vanillina facciamo amalgamare il tutto per 50 secondi a velocità 5 l'impasto della frolla è pronto andiamo a trasferire una pellicola trasparente e posizioniamo il frigo per almeno mezz'ora abbiamo rivestito la frolla con la pellicola trasparente ci permettiamo di consigliarvi di non farla a palla ma di fare un panetto schiacciato che si raffredderà molto più rapidamente andiamola a trasferire in frigo trascorsi il tempo andiamo a riprendere la frolla togliamo la pellicola trasparente andiamo a posizionare su un foglio di carta da forno e posizioniamo un altro sopra e l'andremo a stendere adesso andiamo a rimuovere il primo foglio di carta da forno che andremo a posizionare su una teglia dove andremo ad adagiare i nostri biscotti e con una formina iniziamo a creare i nostri biscotti andiamo a posizionarli sulla teglia adesso andremo a formare la parte superiore del biscotto quindi effettueremo il foro e poi andremo a prendere uno dei nostri stampini questo sarà l'effetto dopo aver fatti i biscotti andiamo a infornarli per 10-12 minuti a 180 gradi i nostri biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di farcirli con marmellata e nutella una volta che si sono raffreddati i biscotti andiamoli a farcire iniziamo con la nutella andiamo a chiudere con l'altro biscotto prendiamo la marmellata e andiamo a chiudere la parte di sopra e proseguiamo così per il resto di tutti gli altri nostri biscotti biscotti con marmellata e nutella grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti